salve ragazze buongiorno e benvenute nel mio cesso allora sono senza make up vedete come potete vedere perché volevo presentarvi un prodotto che mi ha fatto conoscere una mia carissima amica di questi prodotti tramite la Jeunesse Global allora la Jeunesse Global è una marca penso sia francese o americana che usa questi prodotti che vende questi prodotti per l'età per l'anti age come è che si dice e non solo questi vende anche prodotti per dimagrire per l'acne per le unghie vitamine robina che ha a che fare con il corpo con la cura del corpo allora lei è venuta ad Abbadia qualche giorno fa e mi ha presentato questi prodotti e io sono stata curiosissima di provarli e di testarli perché naturalmente hanno un costo però ne vale la pena inoltre si può anche entrare nel cerchio e vendere questi prodotti oltre che a usarli per scopo personale comunque io nell'info box vi lascio tutte le informazioni perché ne vale veramente una pena anche io lì per lì quando Angela me ne ha parlato lei è una dottoressa quindi non è una persona cioè è una persona che ha una qualifica quando me l'ha parlato lì per lì diciamo sono restata un po' perplessa dico i soliti prodotti come ci sono di Avon come ci sono di Ivre La Roche come è che si chiama prodotti buoni perché chi ama il make up cioè sa che ci sono dei prodotti buoni poco buoni di marca alta profumeria bassa profumeria insomma tutti questi prodotti ora scusate sto sudando ma io non è colpa mia è colpa delle saudane ma mi mangio come faccio insomma vi stavo dicendo appunto ci sono cioè lì per lì quando me ne parlò dico ma vabbè i soliti prodottini che si usano così no non mi interessa guarda mi disse provali te li faccio provare e poi te ne rendi conto oh ragazzi io mi sono messa lì come mi ha spiegato di fare come c'è scritto di fare ma funzionano veramente allora io oggi volevo presentarvi due prodotti questo qua che si chiama instantly instantly ora scusate il mio inglese lo sapete non è ageless che è una sorta di di crema chiamiamola così di crema che va a migliorare a riempire a rimpolpare le nostre zampette di gallina le nostre palpebre cadenti queste espressioni del volto queste piccole rughette che abbiamo tutti qui io sono due giorni che la do per due giorni che oddio mi sembra di essere cioè di avere la pelle va a curare le piccole macchie della pelle poli dilatati avete avuto l'acne e avete delle macchioline quindi questo questo prodottino va a curare tutte queste imperfezioni oltre che a rimpolpare le nostre piccole rughette che abbiamo di espressione di età guardate quanto è bellina la confezione allora è una confezione così che si apre così e poi dentro ci sono queste fialette naturalmente ora queste sono così di prova però ci sono tante fialette dentro a rendere la pelle visibilmente tonica veramente allora io ve lo faccio vedere vi faccio vedere col cronometro quello che succede naturalmente prima facciamo una panoramica sul mio viso che non è proprio allora ecco così ci siamo vedete io come già sono come sto già meglio rispetto a qualche tempo fa che non che non usavo questo prodotto ora lo sto usando e io vi faccio vedere che tutte queste cose vanno a scomparire queste queste cose di queste righettine così di espressione così vanno a scomparire questo prodotto non va usato nella palpebra mobile però si può usare qui sopra la palpebra cadente si può usare sotto la zona oculare qui comunque vedete come sto già meglio con con le rughette eh lo vedete quanto sto già meglio eh allora iniziamo subito vi metto anche il il cronometro al cellulare così vi rendete conto quanto quanto passa allora questo campioncino qua ora se me lo metto a fuoco prendo una piccola confezione una piccola dose guardate eh ora questo è già qualche giorno che lo sto usando ok ecco guardate proprio proprio piccola e la vado a a far penetrare piano piano allora questa è la zona prendo il phon ecco qua tempo scaduto due minuti bastano allora ragazzi io volevo farvi vedere la la turgidità insomma com'è che si dice si può dire turgidità il quello che è successo allora guardate qua rispetto vedete che spettacolo cioè io mi sento la pelle proprio che mi tira come se mi avessero fatto un lifting hai visto guardate che lavoro anche l'occhio è un pochino più aperto lo vedete rispetto a questo quanto è è diversa la pelle è proprio è una cosa dell'altro mondo proprio lo vedete proprio mi sento la pelle proprio rimpolpata proprio non so come spiegarvi la sensazione di guardate lo vedete anche da sole le rughette qua vedete rispetto a questo com'è com'è diverso quanto è più tirato figuriamoci a lungo andare lifting istantaneo per 8-9 ore quindi se no lo mettiamo la mattina e la sera prima di andare a letto cioè ringiovanisce parecchio questa parte nostra cioè la parte dove abbiamo dei problemi quindi ecco io vi volevo far vedere quanto sta più su questa parte della faccia rispetto a questa qua vedete guardate qua c'è la lineetta qui delle delle zampettine di gallina mentre qua vedete quante turgi da questa parte naturalmente ripropongo il prodotto anche in quest'altra parte ora vabbè vi ripeto che qua ce n'è pochino perché l'ho usato in questa fialetta però ecco addirittura addirittura si può mettere anche sulle mani se uno ha delle macchioline dei problemi di di pori dilatati si può mettere ecco appunto anche in queste parti del viso dove dove abbiamo ecco un pochino più i pori dilatati e lo spettacolo cioè il risultato è travolgente veramente è una cosa io mi sento proprio la pelle tirare come se mi avessero fatto davvero il lifting e questo dura questo effetto qua dura dalle 8-9 ore quindi voglio dire un buon un buon prodotto sono veramente sono veramente soddisfatta di questa marca qua allora ragazzi io per qualsiasi informazione vi lascio nell'info box il il sito web dell'angela vi lascio la dove poterla contattare e quindi ecco lei vi spiegherà tutto per filo e per segno come acquistare il prodotto dove acquistarlo e quello che succede con questo prodotto e se volete entrare in questo mondo della della jeunesse jeunesse io scusatemi non so tanto brava o il francese o l'inglese o che e che su questo su questo prodottino qui quindi io per adesso vi mando un bacione enorme vi saluto e ringrazio anche Angela per per avermi fatto provare questo prodotto ciao belle